Questo in Egitto è un viaggio che ha un'aspettativa speciale, un viaggio di unità e di fratellanza. Papa Francesco è sull'aereo che lo porterà al Cairo per il suo diciottesimo viaggio apostolico e secondo in terra d'Africa e ai 70 giornalisti che lo accompagnano lo presenta così, prima di scendere la scaletta dell'aereo all'aeroporto internazionale della capitale egiziana. Le strade della megalopoli più popolosa del Medio Oriente, che portano il corteo papale al palazzo presidenziale di Eliopolis, sono deserte blindate per motivi di sicurezza dopo i recenti attentati terroristici. Dopo il colloquio privato con il presidente al-Sisi, impegnato nella lotta al terrorismo cialista, che ha fortemente voluto questa visita, il Papa si trasferisce nell'Università di Al-Azhar, la più alta istituzione teologica e distruzione dell'Islam sunnita, per incontrare il rettore, il grande imam Al-Tayeb. Insieme, Francesco e lo Sheik intervengono poi nel centro conferenze di Al-Azhar, alla conferenza internazionale sulla pace organizzata dall'Università, con relatori e partecipanti di tutte le religioni. Lo Sheik Al-Tayeb sottolinea che l'Islam non è una religione di terrorismo, anche se gruppi di seguaci che malinterpretano i testi islamici e li manipolano, uccidono e seminano distruzione. E ringrazia il Papa per averlo ricordato. Al termine del discorso, Francesco lo abbraccia calorosamente e poi lo saluta all'inizio del suo intervento come il mio fratello, grande imam. Il Pontefice sottolinea l'importanza di educare i giovani ad essere costruttori di civiltà. Non vi sarà pace senza un'educazione adeguata delle giovani generazioni. E non vi sarà un'educazione adeguata per i giovani di oggi se la formazione è loro offerta non sarà ben rispondente alla natura dell'uomo essere aperto e relazionale. L'educazione diventa sapienza, prosegue il Papa, quando forma identità non ripiegate su se stesse ma in ricerca dell'altro, come parte integrante di sé. È l'educazione che propongono i padri dell'Istituto Domenicano di Studi Orientali del Cairo. Il direttore, padre Jean Duruel. Ci impegniamo a conoscere l'Islam dall'interno, per così dire, per diventare esperti di studi islamici e anche per aiutare i musulmani ad entrare nella comprensione del cristianesimo, per consentire la reciproca conoscenza. La paura si fonda e cresce sull'ignoranza, l'ignoranza reciproca, pertanto, se possiamo combattere l'ignoranza offrendo alle persone strumenti per analizzare discorsi e situazioni, speriamo di contribuire a dissipare la paura, che poi, in ultima analisi, conduce alla violenza settaria. Questo è quanto cerchiamo di fare all'Istituto Domenicano, costruire punti di conoscenza e reciproco rispetto. La storia ricorda che in Egitto le religioni hanno capito l'importanza di allearsi per il bene comune e Papa Francesco evoca il non uccidere delle dieci parole donate da Dio sul Monte Sinai, perché la violenza è la negazione di ogni autentica religiosità. Insieme, da questa terra di incontro tra cielo e terra, di allianze tra le genti e tra i credenti, ripetiamo un no forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme affermiamo l'incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Ritengo che l'operazione da fare sia quella umile e difficile di identificare le radici della violenza all'interno della religione. Molto spesso si sentono musulmani affermare che l'Islam è assolutamente pacifico e non ha niente a che fare con la violenza, ma quando facciamo notare versi violenti, tempi storici violenti, rispondono che non si tratta dell'Islam, quanto piuttosto di come viene interpretato e vissuto. Avevamo la stessa impostazione nella Chiesa Cattolica, ma in un determinato momento storico, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo portato avanti un processo molto complesso di sradicamento delle radici dell'antisemitismo. Quando il Papa finisce il suo discorso, il grande imam ricambia l'abbraccio con lo stesso calore. Poi Francesco raggiunge il lussoso complesso alberghiero di Al-Masa, il diamante gestito dal Ministero della Difesa egiziano, dove lo attendono 800 rappresentanti delle istituzioni, del corpo diplomatico e della società civile egiziana. Prende la parola dopo il Presidente Al-Sisi e invita l'Egitto a ritrovare il suo ruolo insostituibile nel Medio Oriente, per fermare la violenza cieca e disumana, causata dal commercio di armi e dall'estremismo religioso, ma anche da gravi problemi sociali e dal desiderio del potere. Il Papa ricorda le famiglie, alcune delle quali presenti in sala, che piangono i figli vittime del terrorismo, e i cristiani vittime di violenze. Abbiamo il dovere di smascherare i venditori di illusioni circa l'aldilà, che predicano l'odio per rubare ai semplici la loro vita presente e il loro diritto di vivere con dignità. L'Egitto, che al tempo di Giuseppe salvò gli altri popoli della carestia, è quindi chiamato anche oggi a salvare questa cara regione dalla carestia dell'amore e della fraternità. È chiamato a condannare e a sconfiggere ogni violenza e ogni terrorismo. spesso non ci sentiamo abbastanza responsabilizzati su quanto dobbiamo realizzare qui in Egitto. Non possiamo sempre contare sulla protezione della comunità internazionale. Dobbiamo lavorare insieme. In pratica quello che notiamo è che esiste molta ignoranza reciproca. La gente non si conosce. I musulmani non hanno contatti con i cristiani e viceversa. Non vogliono avere a che fare con gli altri e viceversa. Dobbiamo invece uscire dalle nostre case, strade, edifici, posti di lavoro, per incontrare gli altri. Non possiamo contare soltanto sullo Stato, sulla comunità internazionale, eccetera, credendo che possiamo evitare la violenza e soprattutto la violenza di stampo religioso. Per il terzo e ultimo appuntamento della sua prima giornata al Cairo, Papa Francesco si sposta al patriarcato copto-ortodosso, nel vecchio Cairo cristiano. L'abbraccio del successore di Pietro al successore di Marco, Papa Tawadros II, manifesta la vicinanza di tutti i cattolici alla Chiesa copto-ortodossa, la comunità cristiana più numerosa in Medio Oriente, con i suoi 9 milioni di fedeli, che è stata nuovamente colpita al cuore dagli attentati a Tante e Alessandria nella Domenica delle Palme. Quando prende la parola, il Vescovo di Roma ricorda che l'ecumenismo del sangue è un modo di vivere il nostro comune battesimo, anche a costo del sacrificio. Il sangue innocente dei martiri, versato piuttosto che cedere alla tentazione di rispondere al male con il male, ci unisce. Le vostre sofferenze sono anche le nostre. Preghiamo, aggiunge Papa Francesco, perché tanti sacrifici aprono la via ad un avvenire di comunione piena tra noi e di pace per tutti. Le sue parole e la testimonianza di Don Boulos Garas, parroco copto cattolico di Sharm el-Sheikh, già rettore del seminario di Madi. Copti, ortodossi e cattolici, possiamo sempre più parlare insieme questa lingua comune della carità. Prima di intraprendere una iniziativa di bene, sarebbe bello chiederci se possiamo farla con i nostri fratelli e sorelle che condividono la fede in Gesù. Nei vellaggi e nelle piccole città dove la Chiesa si trova, la Chiesa cattolica, di solito si trova accanto o di fronte della Chiesa ortodossa e quindi lavorare insieme, sapere collaborare a livello di caritatevole o a livello di sviluppo ambientale e sociale è una cosa molto importante e sarà una testimonianza vera che la Chiesa è una. Temi ripresi nella dichiarazione congiunta di 12 punti che Papa Tawadros e Papa Francesco firmano al termine dell'incontro, nella quale si impegnano a cercare sinceramente di non ripetere il battesimo che è stato amministrato in una delle nostre Chiese per qualsiasi persona che desidera unirsi all'altra Chiesa. Sono sorprendenti i passi che il Santo Padre sta facendo verso la Chiesa copta ortodossa, passi che hanno smontato montagne secolari. Il Papa ha aperto, ha spalancato le porte e le fenessere alla Chiesa ortodossa, di fare parte della Chiesa universale e hanno fermato un accordo sul battesimo, non più ripetere il battesimo dei cattolici che si sposano nella Chiesa ortodossa. Questa era una ferita per noi i sacerdoti copti cattolici. Le due delegazioni si trasferiscono poi in processione nella vicina Chiesa di San Pietro, dove l'11 dicembre scorso un terrorista suicida ha ucciso 29 fedeli. Assieme a Tawadros e Francesco, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, il Patriarca copto cattolico Sedrac e i capi di altre confessioni cristiane presiedono una preghiera ecumenica. Al termine tutti pregano e accendono un cielo davanti al muro dei martiri, nel chiostro della Chiesa, intriso del sangue delle vittime dell'attentato di dicembre, prima che Francesco deponga una corona di fiori. La mattina dopo, la paura per i nuovi atti terroristici contro i cristiani non ferma i 20.000 egiziani venuti da tutto il paese, cattolici dei sette riti, ma anche copto ortodossi e musulmani che raggiungono il coloratissimo stadio 30 giugno dell'aeronautica militare al Cairo per la messa del Papa. Dopo il giro dello stadio in golf car, Francesco presiede il rito in latino e arabo e all'omelia commenta il brano del Vangelo dell'incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù. Parla di morte, risurrezione e vita. L'incontro con Gesù risorto trasforma ogni vita come quella dei due discepoli. Poi Dio sparisce ai loro occhi e questo ci insegna che non serve riempire i luoghi di culto se i nostri cuori sono svuotati del timore della presenza di Dio. Non serve curare l'apparenza perché per Dio è meglio non credere che essere un falso credente, un ipocrita. Dio gradisce solo la fede professata con la vita perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e non piace a Lui. Bisogna insistere come ha fatto il Santo Padre che l'estremismo non sia di considerare gli altri come nullo, come infideli, come increduli. Invece l'estremismo deve andare verso l'opera della carità, verso il pensiero di come amare il prossimo, come aiutare il prossimo ad essere pienamente umano. E questa è la missione della Chiesa Cattolica lungo i secoli. Nell'ultima tappa del suo viaggio in Egitto, Papa Francesco incontra 1500 sacerdoti, consacrati e seminaristi della Chiesa Copoto Cattolica nel campo sportivo del seminario maggiore patriarcale di San Leone Magno a Madi, nella periferia sud del Cairo, dove la maggior parte di loro si è formata o si sta formando. In mezzo a tanti profeti di distruzione con Nanna e la sua consegna, voi siate una forza positiva, siate luce e sale di questa società, siate il locomotore che traina il treno in avanti. Il Papa lascia il seminario e raggiunge l'aeroporto internazionale del Cairo, qui lo accoglie il Presidente della Repubblica Alsisi, che lo accompagna fino alla scaletta dell'aereo che lo riporta a Roma. Per un bilancio di questa storica visita, ecco le voci di Sami Creta, cattolico maronita del Centro Culturale dei Gesuiti di Alessandria d'Egitto, del Vescovo Armià, capo del Centro Culturale della Chiesa Copto Ortodossa e di Papa Francesco, nella Catechesi dell'Udienza Generale dedicata al viaggio in Egitto. Lui ci ha invita, anche lei ci ha invita a tutti a convolgere, a partecipare nella sua scita attraverso le opere di carità, attraverso una vita più profonda, più reale. Quindi spero che ci porta veramente una luce questa visita del Papa, ci porta la pace che speriamo, anche ci apre nuove porte per il dialogo, una nuova cultura di dialogo diversa da quella che conosciamo. La visita di Sua Santità Papa Francesco in Egitto, terra della Santa Famiglia, è una testimonianza dell'amore e della pace che gli porta con sé e che offre a tutti gli egiziani. Il grande imam, il grande imam, il grande imam al-Tayeb e la conferenza sulla pace presso al-Azhar e l'incontro con il nostro Papa, il nostro Papa Attawadras II, offrendoci l'amore per la pace per tutti in tutto il mondo. L'Egitto per noi è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto quando quella parte del mondo era affamato, Giacobbe con i suoi figli, se ne è andato là. Poi quando Gesù è stato perseguitato, è andato là. Per noi l'Egitto ha quel suo segno di speranza sia per la storia sia per oggi, per questa fraternità. che vengo di raccontarvi.